A Teramo, con il passare del tempo, si fa sempre più preoccupante la situazione legata alla massiccia presenza dei cinghiali. Le incursioni di questi ungulati sono diventate un evento quotidiano con frequenti segnalazioni della loro presenza in giardini privati, orti e aree giochi per bambini. Le zone più colpite includono Colleparco, Colleatterrato, Villa Mosca e Scapriano, dove i cinghiali sono soliti rovistare nei cassionetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti condominali causando disordine e sporcizia nelle strade e davanti alle case. La competenza degli animali selvatici è soprattutto regionale, quindi spetta alla regione porre un riparo a questa situazione che diventa di giorno in giorno più grave. Il numero dei cinghiali sta crescendo in modo esponenziale e noi dobbiamo come Comune prendere dei provvedimenti per la salvaguardia anche dei cittadini. E la cosa più preoccupante è che queste incursioni ora avvengono anche di giorno. Il cinghiale è un animale che di solito esce di notte, invece sta cambiando le sue abitudini. Il Comune di Teramo sta tentando di arginare il problema da diversi mesi impiegando dissuasori o fattivi. Tuttavia questa misura non ha portato ai risultati sperati e il fenomeno non solo persiste, ma dall'inizio dell'anno le incursioni sembrano persino intensificarsi. Per questo motivo è stata firmata un'ordinanza doc per l'installazione a giorni di gabbie di cattura nei siti maggiormente frequentati da questi animali. E noi in qualche modo dobbiamo continuare a cercare di monitorare la situazione e lo faremo ancora con i dissuasori olfattivi. E poi, avendo anche la contezza che c'è questa peste suina africana, siamo costretti ad essere ancora più attenti e restringenti perché vogliamo proprio evitare che si possa insinuare questa malattia anche nella nostra regione. C'è chi ha criticato queste gabbie che dovrebbero arrivare a stretto giro, che sono illegali, così sono state definite? Una cosa che ho imparato è che la critica è dietro la porta, dietro l'angolo. Le gabbie sono omologate, sono certificate, quindi sono gabbie che il Parco ci ha messo a disposizione e saranno certamente quelle previste dalla legge.